Una terribile notizia ha colpito i fans di Veronica Peparini e Andreas Muller. Solo pochi giorni fa, nel salotto di Verissimo, Andreas e Veronica vivevano il loro momento di felicità suprema, sognando un futuro radioso con le loro due gemelline. «Non pensavo fosse possibile», aveva detto lei, annunciando con gioia la gravidanza al quinto mese. «Abbiamo avuto un piccolo aiuto, data la mia età, ma è stato subito facile. Siamo stati fortunati, anche perché so che ci sono persone che fanno più fatica. Questa gravidanza è più consapevole, più adulta. Sarà faticoso, ma sarò felicissima di farlo. È un dono, una gioia immensa, qualcosa che non ci aspettavamo». Andreas aveva condiviso il suo desiderio di diventare padre, sottolineando la sua felicità nell'affrontare questa nuova avventura con lei, nonostante la significativa differenza di età di 25 anni. La loro relazione, inizialmente oggetto di dibattito a causa della grande differenza di età e delle complicazioni legate al passato sentimentale di Veronica, aveva superato tutti gli ostacoli. L'amore aveva trionfato sui pregiudizi, portando la coppia a sconfiggere le critiche. Tuttavia, il destino ha deciso di porre un duro colpo sulla loro storia d'amore. Andreas sui social ha detto queste parole. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina, purtroppo, la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori. In questo momento difficile, i fan, in attesa di aggiornamenti, stanno riversando sostegno attraverso i social ai due innamorati e alle loro gemelline, cercando di condividere il peso della tragedia che ha colpito la loro promettente felicità.